Ciao a tutti da Webam TV, siamo in compagnia di Giulio Verago, responsabile dello spazio Via Farini. Qui ci sono libri e audiovisivi, è una grande raccolta, vogliamo sapere la storia e il perché di questa iniziativa. La storia di Via Farini è la storia dell'archivio, dell'archivio storico che è nato con l'associazione nel 1991, in Via Carlo Farini appunto al 35, dal 2008 l'archivio è qui alla Fabbrica del Vapore ed è un archivio un po' unico in Italia perché raccoglie non solo un fondo bibliotecario molto ampio di oltre 20.000 volumi sull'arte soprattutto moderna e contemporanea degli ultimi 30 anni, ma, e questo è quello che lo separa da altri luoghi, è anche l'archivio dei portfogli. Abbiamo raccolto dal 91 oggi oltre 5.000 portfogli. Cos'è il portfoglio? È la documentazione sia cartacea che digitale del lavoro degli artisti, degli artisti visivi, dalla generazione di Maurizio Cattelan, di Mario Ero, che era emergente soprattutto verso la fine degli anni 80 e i primi anni 90, fino agli artisti emergenti di oggi, quindi che riusciamo a raggiungere grazie alla collaborazione con accademie e scuole internazionali anche per le arti visive. Quindi qui alla Fabbrica del Vapore c'è un patrimonio a disposizione di ricercatori, di studiosi, di studenti e chi viene qui contattandoci può lavorare e studiare e farsi un'idea di quello che è la scena artistica e di cosa significa essere artisti in Italia. Non è però solo un insieme di materiali, è soprattutto per noi un modo per rimanere in contatto con la scena artistica, perché quello che separa un archivio del contemporaneo da un archivio storico è il fatto che gli artisti sono vivi, sono vivi e vegeti, diciamo, lavorano e quindi è un archivio relazionale, è un archivio di relazioni per noi con la scena artistica più qualificata.